I motivi di questo esercizio sono molto semplici, in Italia abbiamo costi di produzione più alti rispetto agli altri, abbiamo un problema di quantità di terra che è molto poca perché la pionola padana è veramente un francobollo rispetto a tante altre pianure e ci troviamo una globalizzazione ormai della ciro agricoltura, come dicevo all'inizio, però trasportare un quintale di mais dal Nord America a Via Nave al porto di Ravenna costa meno che non caricarlo poi su un camion e portarlo nelle nostre aziende, quindi capisce che produrre cereali in Italia diventa sempre più difficile, diventa sempre più difficile perché non abbiamo le stesse condizioni che hanno altri paesi, si è parlato di ricerca genetica, si è parlato di utilizzo di prodotti particolari per la maiscultura e si è trattato comunque di avere una difesa dell'agricoltura non solo italiana ma europea. Come sono intersecate le due crisi, la crisi della maescultura e la crisi invece della zootecnia? Beh, in Italia come in tutta Europa la ciro agricoltura sta alla base dell'alimentazione zootecnica e quindi se entra in crisi soprattutto la zootecnia entra in crisi tutta la filiera che serve a questa zootecnia, quindi oggi ci ritroviamo con delle filiere zootecniche che stanno soffrendo per i bassi prezzi pur avendo una qualità altissima e a cascata tutti i componenti della filiera stanno soffrendo dai ciro agricoltori, da chi ci fornisce mezzi tecnici, dai produttori di macchine agricole. Qualità, citato la qualità, qual è la qualità della nostra granella? Riusciamo, perché ho letto che si usa diciamo stoccare tutto assieme. Allora, sono tre anni che purtroppo la qualità del nostro mais è molto peggiorata dovuta a condizioni climatiche che impediscono alla nostra ciro agricoltura di essere competitiva con gli altri paesi. Abbiamo avuto problemi di tossine, oltretutto tossine diverse tutti gli anni e il problema del mais è che è difficile stoccare, dovremmo avere 10 milioni di silos per ogni singola partita. Purtroppo quando viene messo insieme, se mettiamo insieme del mais con problemi di tossine rischiamo di contaminare molto anche l'altro mais. Citava i costi, cos'è che influisce sui costi e quali sono i costi che un imprenditore deve affrontare? Beh, come in tutta Europa noi abbiamo soprattutto costi di burocrazia. Questa pacca è vecchia, questa pacca è estremamente complicata e viviamo in un paese bellissimo che è l'Italia, ma anche qua in Italia siamo quelli più burocratizzati al mondo. Dobbiamo sicuramente fare un mea culpa anche noi agricoltori, nel senso che dobbiamo rendere più efficienti le nostre aziende, le nostre aziende in Italia sono piccole, abbiamo poca la capacità di aggregarci agli altri per costituire cooperative, per costituire organizzazioni di prodotto che possano raggruppare il prodotto e quindi essere più forti sul mercato. Messe insieme tutto questo genere di problemi ci ritroviamo ad essere meno competitivi rispetto ad altri paesi. Grazie a tutti!